E salve a tutti, in questa nuova puntata del corso sulla fruizione accessibile ci occuperemo delle visite guidate notturne che il Parco archeologico di Pestum ha organizzato nel corso dell'estate, dell'estate dell'inverno e poi dell'estate del 2019, ma lo faremo sempre all'interno del nostro discorso sulla fruizione accessibile, dunque non solo per ricordarci ciò che abbiamo fatto lo scorso anno. Infatti anche queste visite guidate fatte in notturna hanno dischiuso degli aspetti del patrimonio ai visitatori e per questa ragione ricadono perfettamente nel concetto di fruizione accessibile, per come lo abbiamo definito nelle prime puntate. Ma cosa c'entra il cielo notturno, dunque il cielo stellato con un sito archeologico quale quello di Pestum? Beh in realtà noi capiremo che il rapporto è molto stretto, innanzitutto sono stati gli antichi a creare le costellazioni, le costellazioni vedremo sono delle costruzioni umane consistenti nell'unire astri, stelle, in modo da formare delle figure. Questo è stato fatto nel mondo antico, noi lo abbiamo ereditato in quanto moderni, codificando poi il patrimonio astronomico. Per quale ragione gli antichi hanno osservato in modo costante il cielo notturno, il cielo stellato? L'hanno fatto per una serie di ragioni che proveremo a toccare da molto lontano, ma anche per una ragione precisa che sarà meno in vista nelle successive slide, per il computo del tempo. Gli antichi non avevano l'orologio al polso, ma il calcolo del tempo si fondava anche sull'osservazione degli astri, in quanto gli astri compiono dei movimenti costanti che permettono di computare il tempo. In ogni città, in una città antica c'erano delle persone preposte all'osservazione del cielo stellato, delle costellazioni, per conoscere per esempio il tempo di avvento delle grandi feste sacre in onore degli dei. Dunque noi capiremo anche che spegnere le luci a Pestum, cosa che è stata fatta dal progetto di visite guidate di Pestum al Chiaro di Luna, ha significato una cosa molto importante, perché ha avuto tanto da dire sul patrimonio che noi custodiamo a Pestum. Queste sono cose che capiremo nelle prossime slide. Adesso descriveremo il programma delle visite guidate notturne a Pestum e nelle successive slide andremo ad approfondire i temi. Chiaramente va fatta una premessa che a tutti quanti nota. Nel periodo invernale, a causa dell'anticipo del tramonto, che nel mese di dicembre, metà dicembre avviene attorno alle 4.35-4.40, il santuario meridionale è normalmente visitabile in notturna, grazie all'illuminazione artificiale, ma questi programmi di visite guidate, come ben sappiamo, hanno fatto molto di più. Il punto di svolta è stato rappresentato dalle visite guidate di Pestum al Chiaro di Luna, si è trattato di visite guidate al buio, a cura degli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza, delle passeggiate notturne durante le quali è stata spenta l'illuminazione artificiale. Questa è l'idea rivoluzionaria che andremo ad approfondire nelle prossime slide, ma possiamo già anticipare che l'idea guida è stata quella di restituire il santuario meridionale ad un rapporto più intimo con la notte, dunque permettere un'esperienza più originaria del paesaggio e dei templi da parte dei visitatori, ma di questo parleremo dopo. Le visite sono cominciate precisamente il 23 dicembre del 2018, sono proseguite fino al 30 marzo del 2019. Il successo di pubblico è stato notevole, tantissime le reazioni positive per lo spegnimento temporaneo dell'illuminazione da parte dei visitatori. Il successivo programma di visite guidate è stato quello di Guardando le stelle dei greci. Si è trattato di un'iniziativa realizzata da Scabbeck, la società in house della regione Campania, per la valorizzazione dei beni culturali regionali. In occasione della quinta edizione di Campania by Night, le visite sono proseguite dall'11 luglio fino all'8 settembre del 2019 e hanno riguardato, come approfondiremo nelle prossime slide, il tema del rapporto strettissimo tra il mito e le costellazioni. Le passeggiate al buio di pesto mal chiaro di luna hanno avuto due protagonisti fondamentali, in stretta collaborazione. Innanzitutto lo spegnimento dell'illuminazione artificiale dei tempri del santuario meridionale e, in modo strettamente connesso, le lanterne che sono state assegnate a ciascun visitatore. Ma va capito questo, perché spegnere le luci del santuario meridionale? Certamente l'illuminazione artificiale consente delle esperienze emozionanti, tutti noi abbiamo ben presente i colonnati di color bronzo oro del Tempio di Nettuno durante le notti, però al contempo, proprio perché l'illuminazione artificiale fa vedere, quindi dà visibilità ad un monumento, al Tempio di Nettuno, durante la notte, al contempo ci toglie qualcosa, ci rende impossibile l'esperienza della notte, così come gli uomini dell'antichità, ma anche quelli della modernità, quando l'illuminazione artificiale non era ancora esistente, hanno invece avuto. Immaginiamo il santuario meridionale nel periodo greco, ad esempio, quando l'illuminazione era fornita solamente da torce e lampade che sicuramente erano accese in quei luoghi, ma realmente questo progetto ha voluto seguire le tracce di un ritorno all'esperienza dei primi viaggiatori del Grand Tour, quando il santuario era un insieme di rovine, appena riscoperte dal punto di vista culturale, non ancora illuminato dall'illuminazione artificiale. E infatti il manifesto a Locandina, preparata dall'ufficio stampa e comunicazione, ha utilizzato un quadro che è stato esposto per un po' di tempo nel museo, dipinto da Antonio Coppola attorno al 1890, che ritrae i due templi con vista da sud-est al chiaro di luna. Ma realmente i visitatori, i primi viaggiatori del Grand Tour, sono entrati in quella che poi sarebbe diventata l'area archeologica e che all'epoca era un insieme di rovine durante le notti. Abbiamo una testimonianza abbastanza conosciuta di un viaggiatore scozzese, Crawford Tate Remage, che nell'aprile del 1828, precisamente, controllo un attimo il libro qui, il 29 aprile del 1828 era entrato nelle rovine di Pestum e lui scrive che la luce del giorno era andata via da un po', ma brillava il chiarore della luna. Tutto taceva in un silenzio tombale. Allora mi diresti dentro le rovine dei templi e poi lui afferma di essersi seduto sui resti di un antico altare. C'era un silenzio perfetto, mi trovavo al centro di quella che un tempo era stata una popolosa città. Ecco, l'altare dentro il Tempio di Nettuno sicuramente non c'è, quindi è interessante questo aspetto. Probabilmente, se è vero che lui entrò dentro il Tempio di Nettuno, si tratta di un'interpretazione sbagliata delle strutture che esistono all'interno, ma quello che interessa a noi è il fatto che questo umanista scozzese, questo scrittore viaggiatore scozzese parli di un rapporto tra il silenzio perfetto e subito dopo questo lo rimanda alla percezione del passato. Mi trovavo al centro di quella che un tempo era stata una popolosa città. Questo tipo di esperienze della notte come una sorta di custode del mondo scomparso e gli antichi. E' ciò che lo spegnimento dell'illuminazione artificiale, queste visite notturne con le lanterne, curate dagli assistenti alla fruizione, hanno permesso ai visitatori. E' stata dunque un'idea davvero radicale che ha reso possibile anche una serie di riflessioni che abbiamo fatto assieme ai visitatori, appunto sulle implicazioni, sulle conseguenze dell'illuminazione artificiale. E' una serie di riflessioni che la cultura europea, occidentale, contemporanea da tempo sta facendo. Quindi è molto importante che questo sia avvenuto anche a Pestum, dove lo spegnimento dell'illuminazione artificiale ci ha restituito per dei momenti che tutti noi ricordiamo, un rapporto più intimo con i monumenti antichi. In questa slide vediamo due immagini che rappresentano molto bene l'essenza delle visite di Pestum al Chiaro di Luna. Vediamo molti visitatori radunati all'ingresso di porta principale con le lanterne. E poi l'incambinamento assieme a noi assistenti alla fruizione lungo il percorso che costeggia al fianco nord del Tempio di Nettuno. E anche la grande emozione, la grande condivisione tra noi assistenti e i visitatori, di un momento sicuramente magico, di esperienza del cielo notturno. In quel periodo il dominatore dei cieli è la costellazione di Orione che giganteggia sopra il Tempio di Nettuno. Si è dunque trattato di un'esperienza davvero speciale, molto differente rispetto all'ordinaria esperienza dei templi, che ha reso possibile un rapporto molto più profondo con il paesaggio notturno, in un'atmosfera di grande rispetto verso i monumenti. Il 14 marzo del 2019 si è celebrata la giornata del paesaggio. Si tratta di un'importante iniziativa che il nostro ministero, il MIBACT, ha adottato nel 2017 allo scopo di promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare le persone alla difesa dei territori. Il parco archeologico di Pestum vi è aderito attraverso le visite con le lanterne, scegliendo un titolo ad hoc, Pestum nella notte, il paesaggio antico dei templi. A sinistra vediamo il manifesto realizzato dall'ufficio stampo e comunicazione. A destra vediamo un'immagine scattata poco prima della partenza della prima visita guidata, con un grande successo di pubblico, come ricorderete e potete vedere in fotografia. Pestum dunque ha voluto parlare del paesaggio antico, quale? Quel paesaggio che può essere tutelato e protetto solamente spegnendo le luci, cioè il paesaggio notturno, il paesaggio in cui la notte stessa consiste. Un paesaggio che a Pestum assume un storico a causa della presenza dei monumenti e del modo in cui la notte interagisce con essi. Adesso parleremo dell'iniziativa guardando le selle dei greci che Scabbeck ha realizzato nel corso della scorsa estate, da luglio alla prima settimana di settembre, con il supporto dell'ufficio stampo e comunicazioni e dell'ufficio fruizione del parco archeologico, i quali hanno curato, realizzato dei testi che sono stati, che hanno formato la base narrativa per le visite guidate che materialmente ha curato l'associazione Iperion di Salerno. È interessante capire che al centro di queste visite guidate c'è stato l'intreccio strettissimo tra le storie del mito dei greci e le costellazioni astronomiche. Sappiamo infatti che i miti dei greci molto spesso contemplano il trasferimento dei personaggi, della figura dei personaggi reali in cielo, in modo tale che la loro figura va a comporre la figura della costellazione. È una, si chiama, catasterismo, cioè trasformazione in astri, anche se realmente è un trasferimento della figura dalla terra al cielo, che è un fenomeno molto diffuso nelle storie del mito. Ora noi non potremmo entrare nei dettagli di questo argomento, che poi diventa davvero complesso, ma è interessante capire qual è il presupposto di questo rapporto strettissimo che la cultura umana ha stabilito con il cielo notturno, con il cielo stellato. Per capirlo possiamo tenere presente questo, i templi di Pestum sono davvero antichi, sono tra i monumenti più antichi che i greci abbiano lasciato a noi. La basilica è un tempio del VI secolo a.C., è lì da 2500 anni, ma al di sopra dei templi greci di Pestum si stende una sconfinata antichità, è quella del cielo notturno, del cielo stellato. Se le stelle potessero parlarci ci racconterebbero non solo tutta la storia dell'uomo, ma l'intera storia della terra, visto che le stelle esistono, si sono formate da miliardi e miliardi di anni. Tuttavia qualcosa in realtà le stelle, il cielo notturno, dice proprio della storia della cultura degli uomini, visto che le costellazioni sono costruzioni umane, non esistono indipendentemente in quanto associazione tra le stelle. Le stelle esistono, ma l'associazione tra le stelle è stata creata dagli uomini che hanno unito in figure stelle che anche che nulla hanno a che fare tra loro dal punto di vista dei legami fisici reali. Sono gli uomini che hanno creato migliaia di anni fa. È tuttora discusso tra gli studiosi nella comunità scientifica se le costellazioni siano state create, dunque gli astri siano stati uniti in queste figure, in un singolo momento storico da parte di una sola cultura, o se il processo di creazione delle costellazioni sia distribuito nel tempo con il contributo di più culture. È tuttora un problema aperto, così come un problema ancora discusso se la finalità che sta dietro la creazione delle costellazioni sia di carattere pratico o di carattere estetico, se cioè le culture abbiano raggruppato le stelle in costellazione, in costellazioni per ragioni di carattere pratico legate ai cicli produttivi agricoli, alla navigazione marittima, alla caccia, in quanto le stelle forniscono un solido orientamento data la costanza della loro presenza nel cielo notturno, oppure se siano stati ragioni di carattere puramente formale, cioè la bellezza e l'associazione visiva tra tra un certo gruppo di stelle e una certa figura di animali o di personaggi umani, ad aver imposto agli uomini la creazione della costellazione, dunque la sua denominazione. Anche questo è un problema discusso. Sono problemi davvero interessanti che non certo possono essere affrontati qui, ma che in parte sono stati toccati in questi testi che abbiamo consegnato all'associazione Iperion. C'è una cosa però che vale la pena di dire e che riguarda i greci, visto che i greci sono coloro che ci hanno consegnato il patrimonio che noi custodiamo, l'oro e poi i lucani e i romani. I greci sicuramente conoscevano le costellazioni, le hanno nominate, hanno proiettato miti sulle costellazioni. I greci però, almeno nella parte iniziale della loro storia, non distinguevano con precisione le stelle dai pianeti. Sappiamo infatti che le stelle brillano di luce propria per violenti fenomeni di combustione in cui esse stesse consistono, mentre i pianeti brillano di luce riflessa, sono dei corpi solidi che riflettono la luce del sole. Ebbene, i greci non distinguevano con precisione gli astri, le stelle dai pianeti, infatti avevano una sola parola, aster, che significa astro, per indicare entrambi. A distinguerli era invece già una cultura loro anteriore, la cultura mesopotamica, culture che esistevano da migliaia di anni. Lì i pianeti erano già stati osservati e distinti dalle stelle. Il moto dei pianeti è un moto molto più complesso rispetto a quello delle stelle, ma questa distinzione già chiara nelle culture mesopotamiche poi venne recepita in seguito dalla cultura dei greci. Nel corso dell'estate 2019 abbiamo voluto realizzare un evento per approfondire il tema dell'antichità del rapporto tra la cultura umana e il cielo notturno, le costellazioni. Per farlo abbiamo invitato la professoressa Paola Capponi dell'Università di Torino, una docente di lingua spagnola, ma che negli anni scorsi ha scritto due libri sul tema della storia dei nomi delle costellazioni e delle stelle. L'abbiamo invitata a tenere un evento, una conferenza a Pestum intitolata Cielo e parole, i nomi di Orione e delle Pleiadi nella tradizione mitologica e popolare. Perché cielo e parole? Abbiamo detto che le costellazioni sono delle costruzioni umane, cioè se, speriamo il più tardi possibile, quando gli uomini non ci saranno più, non ci saranno più nemmeno le costellazioni, nel senso che i vincoli, i legami che formano le figure in cui sono state unite le stelle si scioglieranno perché non ci sarà più nessuno a pensarle e a nominarle, sono delle costruzioni umane, rimarranno le stelle. Sappiamo che migliaia di anni fa gli uomini hanno unito le stelle in figure di animali, di personaggi umani, anche di cose, piante, eccetera, creando così le costellazioni. Ora noi non sappiamo con precisione, abbiamo già accennato prima, quali culture abbiano codificato, abbiano creato le costellazioni, unendo le stelle, quando esattamente lo abbiano fatto e per quali ragioni. Tutto ciò è ancora discusso. Ciò però non significa che non ne sappiamo nulla. Abbiamo una serie di indizi, sia di natura astronomica che di natura archeologica, che ci suggeriscono alcune cose. Innanzitutto che la mappa del cielo che la tradizione occidentale ha ricevuto in reddita è il risultato dell'unione di due componenti, una fornita dalle antichissime conoscenze astronomiche delle culture mesopotamiche, mi riferisco ai babilonesi e anche prima, non entro in dettagli, quindi al Medio Oriente. L'altra componente è quella delle conoscenze astronomiche dei greci. Sembrerebbe che la prima componente, quella proveniente dalla cultura mesopotamica, abbia in sostanza codificato le conoscenze relativi ai pianeti, quindi Giove, Venere, Saturno, eccetera, e alle costellazioni zodiacali, che sono quelle costellazioni che si muovono all'interno della fascia dello zodiaco e che hanno un rapporto molto stretto con il Sole, perché lo zodiaco, non entrerò nei dettagli, è quella fascia ideale che percorre il cielo, dentro la quale si svolge il movimento apparente del Sole nel corso dell'anno, quindi il Sole in ogni stagione attraversa certe costellazioni dello zodiaco. Sembrerebbe che queste le abbiano codificate le culture mesopotamiche. I greci invece pari abbiano dato un contributo per quanto riguarda le costellazioni legate alla navigazione marittima, dunque quelle visibili dalle regioni meridionali del nostro continente. Ma ad immortalare le costellazioni, i nomi delle stelle che rispecchiano questa grande storia che gli uomini hanno proiettato in cielo, sono stati i poeti che hanno anche fissato e codificato i miti che hanno interpretato queste figure astronomiche delle costellazioni. Di due costellazioni o comunque di due figure astrali ci ha parlato la professoressa Capponi. Una è Orione, è una delle costellazioni più splendenti nel nostro cielo, è visibile soprattutto nel periodo invernale e anche maverile in parte, in questo periodo la si può vedere molto a ovest, nelle prime fasi della notte, ed è la figura di un cacciatore, figlio di Poseidon tra l'altro. L'altra costellazione, anche se in realtà non è proprio una costellazione, viene chiamata Asterismo, cioè un insieme di stelle, è quella delle Pleiadi. È uno degli insiemi di stelle più belli per il suo colore bianco-azzurro, viene interpretato dal mito come quello delle sei sorelle, sono sei sorelle inseguite costantemente dal cacciatore da Orione. Queste due figure astrali, Orione e le Pleiadi, sono state nominate dai poeti sin dall'antichità. Le troviamo in Omero, ad esempio, Orione è dipinto sullo scudo creato da Efesto per l'Achille, Orione e le Pleiadi sono tra le costellazioni verso cui indirizza il timone Ulisse nell'Odissea, quando può abbandonare finalmente l'isola della ninfa Calipso, ma le Pleiadi sono nominate anche da Saffo, la grande poetessa dell'amore, della grande poesia arcaica greca del VI secolo a.C. In sostanza quindi con la professoressa Capponi abbiamo discusso, grazie al suo intervento, di questo dialogo fittissimo che la cultura umana ha intrattenuto con il cielo stellato, un dialogo che, questo è anche il punto che ha formato la base per le nostre iniziative, si è interrotto nel mondo industrializzato, quando gli uomini hanno voltato lo sguardo, possiamo dire, non hanno più osservato il cielo notturno stellato per quelle motivazioni legate ai cicli produttivi dell'agricoltura, alla navigazione, all'esplorazione, eccetera, però di questo dialogo permangono dei fossili, dei fossili linguistici, cioè permangono delle parole, sono quelle parole che nominano gli astri e che sono presenti, e le costellazioni, che sono presenti sia nella cultura alta, nella tradizione mitologica, dunque nella poesia, ma sono presenti anche nella nostra cultura popolare, sono i nomi con cui ad esempio i contadini, per avere informazioni sull'arrivo di una certa stagione favorevole a quel tipo di coltivazione o meno, hanno nominato le stelle e le costellazioni, tra queste in particolare anche le pleiadi che segnano l'avvento della primavera. In fotografia vediamo un'immagine molto suggestiva che è stata scattata il 26 dicembre del 2018, dunque pochi giorni dopo l'inizio delle visite guidate di Pestum al Chiaro di Luna. Si tratta ovviamente dell'ingresso nella Basilica di un gruppo di visitatori con lanterna accompagnato da una collega, sembrerebbe però anche essere un'immagine proveniente dal mondo antico, potrebbe essere una processione sacra notturna con lanterne o con fiaccole in onore della Dea Era, anche se sappiamo che l'ingresso del Tempio di Era è dalla fronte est, dall'altra parte. Ecco, questo però ci consente di fare una considerazione conclusiva. Spegnere le luci dell'illuminazione artificiale dei tempri del santuario meridionale a Pestum ha significato davvero un'operazione importante di sollevamento di un velo, di disoccultamento, quel velo dovuto all'illuminazione artificiale, a cui siamo comunque tutti grati, che occulta, che copre la notte, quindi che la rende invisibile, proprio la notte che è ciò che è essa a rendere invisibili le cose. Occulta anche il cielo notturno e ci toglie davanti agli occhi il paesaggio che la notte crea in collaborazione con i templi. Sono così affluite, grazie a queste visite notturne di Pestum al chiaro di luna, delle nuove emozioni che hanno reso possibili nuove forme di contatto tra i visitatori e il patrimonio che noi custodiamo, proprio ciò di cui noi ci occupiamo, cioè di schiudere il patrimonio in tutti i suoi aspetti ai visitatori. Direi che possiamo concludere con queste osservazioni. Un saluto a tutti e appuntamento alla prossima puntata.